E un vecchio domandò parlaci della religione ed egli rispose oggi ho forse parlato d'altro religione non è ogni azione e ogni riflessione e ciò che non è azione e riflessione è una sorpresa e uno stupore che eternamente sgorgano nell'anima anche se le mani spaccano la pietra e tendono il telaio chi mai può separare la sua fede dai suoi atti e il suo credo dal suo lavoro? chi può disporre delle sue ore dicendo questa è per Dio e questa è per me questa è la mia anima e questa è il mio corpo tutte le vostre ore dall'una all'altra sono ali palpitanti nello spazio chi porta la sua moralità come l'abito più bello meglio sarebbe se ne andasse nudo il vento e il sole non scaveranno la sua pelle e chi si conforma all'etica per consolarsi in prigione in una gabbia il suo uccello canoro il canto più libero non giunge tra i pali e tra le sbarre e chi adora come una finestra che si apre e si chiude non ha ancora visitato la casa dell'anima che da aurora ad aurora a finestre spalancate la vita quotidiana è il vostro tempio e la vostra religione ogni volta che vi entrate portate voi stessi prendete l'aratro e la fucina il martello e il liuto le cose forgiate nel bisogno e nel diletto poiché se meditate non potrete levarvi sopra la vostra gloria né cadere più in basso delle vostre sconfitte e prendete con voi tutti gli uomini poiché se adorate non potrete volare più in alto delle loro speranze né umiliarvi sotto la loro disperazione e se volete conoscere Dio non siate solvitori di enigmi piuttosto guardatevi intorno e lo vedrete giocare con i vostri bambini e guardate lo spazio lo vedrete camminare sulla nube tendere le braccia nel bagliore del lampo e scendere con la pioggia lo vedrete sorridere nei fiori e sulle cime degli alberi sciogliere carezze grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti